oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di news per quello che riguarda il futuro di fortnite parleremo di tante cose interessanti che stanno venendo piano piano a galla l'intervista tra donald master e joff kigli quindi due capoccioni di epigames parleremo anche dei nuovi fanco pop in arrivo per fortnite e ovviamente dell'evento della season e di tanti altri leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che si tratta ovviamente della prossima patch la patch 14.50 è stata leggermente posticipata più per più per la precisione è stata rimessa negli staging server vuol dire che qualcosa non era ancora pronto e quindi molto probabilmente se la vedessimo settimana prossima sarebbe al termine quindi verso fine settimana a meno che non si fare in questo weekend ci aspettiamo tutti quindi qualcosa di veramente interessante per quanto riguarda l'evento quindi il galactus la storia in principale la nexus war e speriamo ovviamente di poterci divertire tantissimo anche perché diciamocela tutta questo fortnite mers ha iniziato leggermente a stufare ma più che altro per le ombre perché diventano davvero impegnative e rovinano un po l'esperienza di gioco e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi che in realtà è una clip ragazzi parlando ancora del galactus volevo farvi vedere semplicemente una velocissima timeline che ci fa vedere dal 3 ottobre fino in avanti come è andato l'evolversi del galactus e come vedete ragazzi è evidente quanto il galactus si sia avvicinato se puntavamo il nostro obiettivo nel cielo un qualcosa che lascia appunto davvero molto ben sperare perché ve ne parlerò fra qualche secondo la chiacchierata che si sono fatti parlava anche dell'evento e già stiamo vedendo i nuovi fanco pop di fortnite per tutti i collezionisti ovviamente un'occasione unica per tenerli e collezionarli abbiamo il miascolo abbiamo mi da oro abbiamo la skin della season 7 credo non ricordo momentaneamente il nome abbiamo nitroglicerina e tante tante altre skin davvero molto bella anche addirittura palla 8 e non solo ragazzi perché insieme ai fanco pop arrivano anche quattro nuovi portachiavi non so bene quando arriveranno anche qua in italia probabilmente si troveranno nelle edicole nelle giocherie davvero o nei game stop davvero qualcosa di molto molto carino e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per chi ancora non avesse preso le monete questa è la mappa dove potete trovare tutte le monete xp le ultime monete che completeranno anche le schede punti quindi mi raccomando fatevi un bello screen fate quello che vi pare prendete le monete perché sono un sacco di punti se avete preso anche tutte quelle precedenti nelle altre settimane andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché cominciano ad esserci delle notizie che non sono proprio confortanti si vocifera che possa esserci un delay di questa season quindi un posticipo dal 30 del fine mese al 2 dicembre qua è scritto sbagliato ragazzi ottobre 30 in realtà non è l'ottobre 30 ci auguriamo però appunto che anche se ci fosse un delay potrebbe essere fatto per la preparazione della nuova season a tema natalizio quindi la season numero 5 abbiamo però anche delle belle notizie che parlano di una nuova ltm in arrivo una 32 versus 32 quindi tanta gente che gioca dentro molto molto simile alla food fight vi ricordate ragazzi la battaglia del cibo quella dove c'erano le due fazioni da una parte il pomodoro dall'altra il durburger e si alzava al muro poi si abbassava e si cominciava a fightare chi distruggeva mi sembra la parte centrale che faceva più danni vinceva anche qua ragazzi c'è una barriera che divide i due team arriva il loot e il build che si può fare ovviamente quando la barriera cade e ovviamente elimina gli altri giocatori per prendere la vittoria reale forse la differenza è che qua sarà proprio un death match e ci sono altre notizie perché pare confermato l'arrivo della skin di venom me lo chiedete spesso e volentieri in live ragazzi ma la skin di venom arriva non arriva c'è si direbbe di sì e qualcuno dice addirittura parliamo dei leakers quelli più vicini al team di epic games che sarà molto molto grande addirittura più grande del brutus e avete in mente ragazzi la dimensione di uno dei boss del boss che c'era al grotto il nome della skin venom nei file di gioco è vertigo quindi si capisce che è in lavorazione ce lo aspettavamo anche perché tanto tempo fa un mesetto fa indicativamente vi avevo fatto vedere che e tutti abbiamo provato trovato poi in game i poteri di venom quindi ci aspettiamo anche di vedere una skin e tra l'altro ragazzi vi parlo anche di una nuova cosa un nuovo oggetto che sta per entrare nelle nostre partite che è l'estintore fire extinguisher chiamato ovviamente in inglese lo troviamo nei file di gioco in preparazione abbiamo anche un'immagine che è proprio questa e la cosa che viene detta è che potrebbe avere la stessa funzione delle taniche di benzina mi spiego le taniche di benzina le utilizzi e finisce il carburante una volta a zero le butti via probabilmente l'estintore avrà la stessa funzionalità e immagino che servirà adomare magari gli incendi che vengono creati con i barattoli quelli esplosivi barattoli incendiari o altrimenti con i poteri di doom che danno fuoco a tutto e probabilmente questo sarà un ottimo modo per contrastare non lo so mi sembra una cosa un po particolare però è nei file di gioco e prima di salutarvi ragazzi volevo anche farvi sentire degli audio perché c'è un nuovo jetpack dedicato ad iron man che sta per arrivare non abbiamo ancora ben chiaro come verrà collocato ma sappiamo che iron man nel trailer si alza in volo con un jetpack e quindi qualcosa è sicuramente in preparazione ve li faccio ascoltare un qualcosa davvero di molto molto interessante come vedete c'è addirittura anche un segnale che ci fa capire quando finisce il carburante non sappiamo se possa essere infinito come ad esempio la lamborghini di iron man ma comunque ci aspettiamo di vedere qualcosa di figo insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo domani mattina alle 8 in live su twitch ciao